Benvenuti benvenuti cari amici di SEMUBT in questo nuovo video naturalmente come sempre vi ricordo di distruggere il botone di like, iscrivervi al canale, iscrivervi anche il canale Tegram oggi andiamo a parlare di nft e metaversi in particolare quelli che secondo me potranno avere un futuro naturalmente vorrei sapere anche da voi nei commenti quali saranno i vostri nft e i vostri metaversi preferiti che magari avranno un maggiore potenziale e per cui perché mi sto sempre più concentrando su nft e metaversi perché dal mio punto di vista sono il futuro ma perché sono il futuro perché dal mio punto di vista per l'appunto gli nft rappresenteranno un vero e proprio status sociale in futuro come abbiamo visto ad esempio che ne sono in medioevo gli imparatori si facevano raffigurare attraverso i loro quadri quindi chi aveva i quadri era assolutamente ricco anche se il quadro non è che aveva una funzionalità ma era prettamente un simbolo e secondo me gli nft saranno così in futuro per le aziende per le persone è un po per tutti per cui iniziamo subito che questa rassegna per quanto riguarda gli nft perché stiamo vedendo veramente numeri pazzeschi guardate qui galia 371 per cento render token 131 per cento e quindi davvero ci sono coin ok stra interessanti che stanno salendo tra i quali anche alim wars 43.9 per cento che avevo segnalato già circa una settimana fa sta facendo rendimenti devastanti e per questo motivo che voglio iniziare con alim wars naturalmente come sempre sono nei consigli finanziari nei consigli trading ci tengo sempre a dirlo ma io vi dico quelle che sono le mie idee e soprattutto che voglio condividerle con la community quindi alim wars al momento siamo a 474 milioni in capitalizzazione che quindi una coin non così piccola però cosa mi piace di alien? sostanzialmente era iper comprata e l'abbiamo visto stava a 7 dollari giornalisti su binance crollata letteralmente questo lo possiamo definire un crollo perché quando una coin perde il meno 95 per cento un crollo ma lì molti di voi diranno perché siamo un bit leader perché quando vedo queste cose vedo i bei progetti ok vado a nozze sono un po io mi definisco un camaleo molto che mi mimetizzo e poi sono pronto ad attaccare quando bisogna difendere ragazzi naturalmente dovete difendervi gli investimenti sono così un continuo attacco difesa attacco difesa naturalmente se sapete incassare i colpi e se sapete sferarli al momento giusto è lì che fate sostanzialmente i soldini quindi questa coin sta su binance diciamo la principale caratteristica per l'appunto di questa coin è che riguarda per l'appunto un gioco nel quale voi potete guadagnare sostanzialmente all'interno di questi mondi alieni nei quali voi combattete ok con i vostri personaggi quindi niente di trascendentale però secondo me queste cose in futuro andranno sempre più e abbiamo visto recentemente uscito un film che tra l'altro sono andato a vedere Eternals che parla per l'appunto di queste cose ho visto che in sale c'erano tante persone qui vedo che in mondi alieni tutte queste cose qui interessano molto tra l'altro abbiamo anche Elon Musk ok che si occupa tantissimo delle cose dello spazio e così via quindi attenzione questo progettino potrebbe promettere bene tra l'altro perché potrebbe promettere bene non è che mi sveglio la mattina e dico ok questo mi piace no c'è dietro un'attenta analisi e vedo anche che binance sta aumentando le posizioni e le aumentate anche FTX quindi insomma quando due exchange decidono di metterci una controparte di 129 milioni di dollari rispettivamente e quasi 7 milioni di dollari secondo me ok non è fatto per caso naturalmente questa coin è molto molto piccola come vediamo dal grafico grafico iper esteso ok come vediamo e quindi di conseguenza potrebbe davvero recuperare tanto naturalmente vedremo nelle prossime settimane se questa avverrà però secondo me è una coin molto interessante la seconda coin che ho selezionato per voi è Terra Virtual TVK ok questa è una coin ancora più piccola perché aveva una cap di 180 milioni quindi circa un quarto ok di Alien Wars anche questa sta sostanzialmente su Binance la potete trovare lì tra l'altro rispetto ai massimi di marzo ok 16 marzo stavamo 1,16 quindi direi in questo momento sta a un terzo del prezzo iniziale quindi un meno 65.6% e questa è una coin che mi piace tanto tra l'altro vi ho mostrato anche in un video quella che era la mia collezione ok di Terra Virtual che a me piace tantissimo la differenza principale qual è rispetto a Alien Wars capitalizzazione di un terzo ok rispetto a Alien però Alien ha 2700 holders qui ne abbiamo già 10.836 quindi dal mio punto di vista una coin è molto più democratica anche qui Binance comunque è andato a investire 136 milioni quindi detiene gran parte del token e non penso che Binance andrà a dampare ai propri clienti ok chiamiamoli così quindi potenzialmente anche qui potrebbe anche questa coin crescere molto abbiamo visto come sostanzialmente guardate qui quanta volatilità c'è e soprattutto chi sa sfruttare questa volatilità ok fa i soldini ora potenzialmente siamo in traline scendente di conseguenza secondo me ok non vi do un target io sono mio target però almeno questo ok andatevelo a studiare naturalmente studiate la coin non investite solamente perché ve l'ha detto Samubit ok io non vi dico di investire ma vi dico ok quelle che sono le coin che dal mio punto di vista mi piacciono di più perché mi piace condividere con voi le mie idee però vi prego ragazzi studiate perché sono coin talmente volatili che se non siete certi ok del target non vi date un target non vi date un obiettivo e soprattutto non li studiate ok poi ma li state male perché queste coin come avete visto vi possono fare anche in pochi giorni un meno 36 per cento che non per tutti è toglierabile ora andiamo a vedere un'altra coin molto interessante che è Teta Network che sostanzialmente questo progetto è molto più grande siamo sui 6 barra 7 miliardi quindi circa un 20x nei confronti di Alienwards come capitalizzazione è detto che si propone come il nuovo youtube sostanzialmente quindi qualcosa di molto più avanzato veramente vuol dare vita a Mass Adoption e tra l'altro vuole retribuire non solamente i creatori di contenuti come ad esempio sono io ma anche chi li guarda quindi Teta secondo me è un progetto molto interessante che ha fatto veramente tanto quest'anno guardate qui partivamo da prezzi veramente minimali anche pochi centesimi ok 20 centesimi siamo arrivati a 7 dollari abbiamo Ultamai a 15 barra 16 dollari in questo momento che cosa osservo? osservo questo supporto potenzialmente dei 388 quindi ottimo tra l'altro il supporto che rappresenta un vecchio Ultamai quindi questo mi dà una doppia conferma e attualmente il prezzo è di 6,79 potenzialmente Teta se recuperasse ok vecchi massimi si andrebbe a fare un più bel 132% abbiamo visto come i metaversi sono delle coin molto molto piccoli abbiamo visto ad esempio Cocos che ria fatto un più 500% di conseguenza ok se queste coin decidono di fare scale rockets lo fanno e voi rimanete lì fermi ok a guardare ora un'altra coin molto interessante secondo me è Gaia Everworld coin stra piccola che ho comprato qualche giorno fa mi sono interessato il progetto normalmente per motivi di tempo che non ve lo andrò a spiegare ma ve lo spiegare in velocità che oggi fa un più bel 65.3% come sempre io dico mai comprare una coin quando sta inolta mai ok almeno che voi non studiate progetto ci credete ma è preferibile ok uno scaglionamento questa è un po' la mia idea ora di che cosa si occupa questo progetto anche qui siamo nel settore del gaming in particolare anche qui di mondi non alieni però comunque di personaggi particolari un stile di ambientazione comunque molto particolare nel quale per l'appunto voi avete dei personaggi vi comprate questi legionari che vanno a combattere delle sostanzialmente delle bestie la particolarità di Gaia è che gira su rete poligon per cui potenzialmente ok potrebbe essere una coin esplosiva perché noi la troviamo ad esempio su Binance sta su pochissimi exchange ed ha davvero una capitalizzazione molto ma molto bassa siamo sui comunque 400 milioni quindi non bassissima però comunque bassa ora andiamo a vedere una coin che conosciamo molto bene in particolare vorrei anche illustrarvi quelle che sono le principali 20 altcoin dei metaversi più viste nell'ultima settimana al primo post abbiamo Radio Kaka, Decentraland, Crypto Cars, Blocktopia, Star Atlas, The Sandbox e in particolare su queste ultime due Star Atlas e The Sandbox mi soffermerò questo secondo me possono avere un futuro molto ma molto importante nel mondo crypto la prima è Star Atlas che ha una capitalizzazione di 351 milioni gira su rete solana quindi è uno dei principali progetti solana per quanto riguarda l'NFT e già questo ci deve far riflettere naturalmente il prezzo è di 0,16 meno 39.3% dall'ultimaio e la troviamo ad esempio su FTX ora il numero di Ultras è comunque di 58 mila persone quindi un Star Atlas che viene molto giocato tra l'altro ok questo qua vedete il gioco un gioco che si occupa di navicelle quindi sostanzialmente sempre rivolto al futuro naturalmente voi potete comprare queste navicelle sul gioco ok giocarci e guadagnarci il gioco ambientato nel 2620 sostanzialmente e naturalmente i crypto giocatori ok vanno a guadagnare Atlas e Polis conquistando ok sostanzialmente nuove terre con le proprie navicelle questo è un po' il gioco a grandi linee ora io vi parlai di questa coin quando stava sui 7-8 centesimi ora ha fatto un X2 da quel momento quindi non male vedo che sostanzialmente questa prima pennant che avevamo avuto qui al 4 di ottobre c'è stato uno scarico ma sembra che ci stia facendo da supporto quindi non male l'azione di Star Atlas in questo momento io la detengo ok ve lo dico mi piace che spormi perché alla fine penso che noi youtuber comunque dobbiamo condividere anche con voi quelle che sono un po' le nostre idee naturalmente non possiamo condividere tutto però se abbiamo delle notizie comunque io benvenga di esporvele naturalmente come sempre sono nei consigli finanziari nei consigli trading però ci tengo qui fortemente a dialogare con voi di noi tre altro obiettivo raggiunto da Star Atlas pensate ci sono 100.000 giocatori all'interno del gioco per cui un gioco che sta crescendo giorno dopo giorno la notizia molto importante che avevamo già visto è quella su The Sandbox ok perché dopo quattro anni di sviluppo quindi qui vi fanno capire come key holders che crede in un progetto potenzialmente può diventare ricco ok? ha lanciato e lancerà il metaverso alfa il 29 di novembre e in particolare ok non serve nemmeno vedere l'action perché è incomentabile nel senso ha fatto skyrockets punto circa un 537% e resta lì ok The Sandbox ma quello su cui vorrei soffermarmi è questo video che secondo me è questo video che l'ha proiettata a livelli assurdi quindi solitamente questo video ok? come vedete dentro The Sandbox e per cui perche mi sta facendo potrebbero crescere ancora naturalmente essendo delle altcoin noi se andiamo a vedere il grafico bitcoin contro altcoin siamo circa metà e potenziamento che potremmo avere presso un altcoin season se andiamo a sommare che tutti gli in effetti metaversi raccogliono una capitalizzazione di 60 miliardi il tutto potrebbe davvero diventare esplosivo naturalmente vi ricordo anche i servizi che offro io se volete una lezione individuale di 30 minuti il costo di 25 euro e in più potete abbonarvi sia al gruppo elite se volete con un costo di 50 euro è il gruppo premium al costo di 24 euro per cui vi ricordo di distruggere il botone like di iscrivervi al canale e ci vediamo presto